una pianta matura ma con delle imperfezioni dove sul secco capita a volte che ci sono delle parti che sebbene naturali la loro forma in contrapposizione con l'andamento della pianta come ad esempio in questo caso già noi possiamo migliorare la forma di questa pianta con una piccola inclinazione ma andiamo a vedere dopo la sigla qual è il grosso problema di questa pianta 5 secondi sigla se già non avete fatto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella e ci vediamo subito ai 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 pianta interessante portamento elegante bella la vegetazione ma purtroppo qua abbiamo un problema un retilineo qua abbiamo la tangenziale dobbiamo cercare di rendere questa parte un pochino più armoniosa e come andare a fare ci vuole solo qualche istante però dobbiamo dare un effetto molto naturale ed è appunto lavorando velocemente che potremmo dare un effetto naturale attrezzi utili in sostanza ciò che gli altri buttano via vecchi attrezzi magari non più performanti come taglio possono essere molto utili per fare questi lavori no questa è tagliente la uso ci tengo ancora nonostante abbia circa vent'anni però questi questi sono attrezzi è un po logori ecco un po tanto logori vissuti allora ognuno ha proprio modo di fare il secco io vi ne faccio vedere uno dei miei metodi poi non c'è il metodo giusto metodo sbagliato perché questo dipende secondo il proprio gusto però vi faccio vedere come dicevo prima un lavoro veloce può essere meglio che senso che se io ho un lavoro sporco e non curato tanto levigato come può essere quello fatto con un attrezzo elettrico può dare un effetto migliore al mio al risultato il mio secco guardate qua ad esempio vedete a ferro e strappo adesso vi faccio vedere da vicino il concetto è riuscire andare a dare un pochino più di movimento e qua già l'abbiamo tenuto creando un piccolo incavo ad esempio e mi raccomando si deve vedere la parte brutta rotta strappata perché a me piace così a voi se piace diversamente potete far diversamente vedete qui come l'imperfezione deve essere evidente perché da segno di rottura un po di movimento tra l'altro si vuol dare questa sagoma marcare questo rientro nella forma e andremo anche a correggere dei piccoli lavori ad esempio qua degli interventi cercheremo di renderlo un po più grezzo lo sgranocchieremo tutto dopo un colpo di fiamma e poi invecchiamento naturale prima ad andare a mettere liquido gingo imprevisto previsto allora questa zona qua ancora umida ma l'avena è discendente quindi vuol dire che si sta asciugando andiamo a riaprire un attimo in modo tale che riusciamo ad accentuare anche quell'andamento un po con la curva che fa la sezione dell'avena poi puliamo e lavoriamo bene sul secco prendi un po di più incisivo è un po più in alto eccoli prendi un po di più incisivo ecco qua un pochino più grezzo vediamo come profilo può sembrare che abbia un pochino più di movimento rispetto prima no tra la pianta ma soprattutto sul tronco laddove prima era dritto 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 adesso un po di movimento abbiamo dato movimento ecco anche asse x y abbiamo una passata veloce per bruciare pelucchi sul secco senza troppo andare a bruciare diciamo con la forza della fiamma perché altrimenti va a zerare il dettaglio del lavoro fatto vedete appena prende e solamente prendere così i pelucchi esterni senza andare a intaccare troppo il resto lo farà l'invecchiamento naturale abbiamo dato una fiammatina una spazzolatina e purtroppo adesso si vede un po meno il dettaglio ma chiaramente i colori vengono un po offuscati dalla colorazione della fiamma vedete il dettaglio del secco non so se ricordate come era prima e poco di movimento che ha acquisito la pianta in questo punto anche lì se ricordate come era prima era un tubone dritto allora applicato anche il liquido gin contrariamente da come ho detto prima abbiamo applicato il liquido gin tanto legno era già secco gli abbiamo dato una fiammatina adesso vedete che chiaramente all'inizio ora è grigio non è ancora bianco ci vorrà qualche tempo poi bagnando un pochino verrà via la parte in eccesso quando sarà asciutto e prenderà il bianco bene questa è la nostra proposta di secco si intende una delle proposte perché poi il secco se lo può personalizzare uno lo può fare come vuole secondo lo stile della pianta secondo proprio gusto secondo proprio così estro spero vi sia piaciuto se volete approfondire non solo lavorazione secco ma tutto ciò che riguarda la formazione del bonsai studio bonsai subria e altrimenti al prossimo video ciao